Serena a Campa, ditelo a tutti che non avete usato l'autotune, ci siamo preparati tanto. Serena a Campa abbiamo veramente provato, guarda. Ciao, sono Blanco. Ciao, sono Mahmood. Siamo qui per rispondere a tutte le vostre domande sulla Revealed Sanremo Edition. RobiMusic18 chiede, c'è un aneddoto divertente dentro le quinte di Sanremo? Che io e Ale prima di salire sul palco, forse anche alle prove, no? Ieri ci diamo un bacio sulla guancia, diciamo divertiamoci perché ci siamo preparati e voglio metterci solo il cuore. Ferouge chiede, stavate pensando a qualcuno in particolare durante la stesura del testo Brividi? Io sì, stavo pensando a qualcuno in particolare, una persona precisa e anche... Vito Cucinelli chiede, come è nata questa collaborazione? Ma è nata perché lui era in studio da Michelangelo e stava facendo delle cose per il suo progetto e diciamo casualmente, io il giorno dopo non proprio casualmente, ci dovevamo comunque incontrare, solo che lui era già lì, io dovevo andare lì da Michelangelo. Ci siamo conosciuti ed è nato un po' tutto da Michelangelo perché ha iniziato a suonare il piano e ha in pratica sbagliato un accordo, una nota e io e Ale abbiamo poi iniziato a cantare il ritornello e da lì poi in quella giornata abbiamo creato il ritornello che per mesi poi abbiamo lasciato lì e poi nei mesi successivi abbiamo fatto la strofa. Sì è stata la session più lunga della vita, però siamo felici. Alice Cerritelli, chi tra i due fa più casino durante le prove? Riccardo ragazzi... Ma dipende in che senso durante le prove? No ma durante le prove in realtà non facciamo casino. Barnier FotoD chiede, chi mettereste nella vostra squadra di Fanta Sanremo? Oddio, Gianni Morandi come punta su queste saperdigi. Pogolador che fa 5 gol a partita. Io metterei Massimo Ranieri ragazzi, sono in fissa. Chiara Biff chiede, Ale, quanta pazienza ci vuole a tenere a Bada Blanchino? Blanchino, Blanchino. Blanchino. Ma no, in realtà guarda posso dire, siamo tutti e due abbastanza sulla soglia dell'esaurimento e nervoso quindi ci compensiamo, è una pazzia che si mischia, che ci entra e ci esce. Tra l'altro Alessia Alman ti chiede, farete altre musica insieme? Mi avete fatto piantere, quale? Noi sappiamo davvero davvero neanche cosa dobbiamo fare tra un'ora perché siamo molto stanchi. L'intervista, te lo dico io. L'intervista, sì. Lorenzo Cavazza 99. Vi state veramente vi state veramente simpatici a vicenda? PS io vi do il cuore. Io devo dire che... L'odio, l'odio. No, non è vero, comunque li voglio un bene dell'Alma. Ah, che bravo. Mi stringe il cuore. Bri Rene. Eravate consapevoli che avreste fatto piangere anche chi non vive la situa del brano? No. Tu hai pianto? Non vivi la situa del brano? Piangami insieme. Mi sapete. Grazie mille delle domande. Andate ad ascoltare Brividi su Team Music.